E adesso signori come tradizione che Villa Magnoli mi faccio un bel giro tra i talamoni per andare a conoscere in queste chiate di questa domenica che ho Villa Magnoli, vai! Andiamo a vedere signori, quasi un assai oggi, quindi un casino, Tiziano 70 anni! Andiamo con questa simpaticissima compagnia di amici! Salute ragazzi! Mario Lino, 90 anni! Mario Lino, signor Mario, 90 anni amore, signor Mario! Grande Mario! Olè! Tanti auguri al dottor Kenner! Tanti auguri! E la sua laurea di economia in management! Signori cosa festeggiate qui? Signori, Luigi Nadia, 56 anni di matrimonio, signori! Tanti auguri! Tanti auguri! Olè! C'è Francesco, tutto a posto! Signora! Bene, proseguiamo, signori! Qui abbiamo i 25 anni d'amore di Felicia e Carmine! Tanti auguri, signori! Tanti auguri! Olè! La signora Mariana! Dove sta la signora? Mariana! Tanti auguri, la signora Mariana con tutta la sua famiglia! Olè! Tanti auguri, signora! E andiamo avanti! Qui abbiamo... Paolo, 50 anni! Olè! 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 Nicola! Buongiorno a fare un bel video! Ciao! Grazie! Grazie auguri! Grazie auguri! Mi dimentico qualcuno? Sì! E questo è il gruppo dei ciclisti, giusto? Sì! I ciclisti di Caracolle! Buongiorno a fare un bel video! Sì! Grazie a tutti!